Tutto è saurito al Teatro Petruzzelli di Bari per la presentazione del libro del Presidente della Camera Gianfranco Fini, Il futuro della libertà. Se doveva essere una prova di forza nei confronti del PDL di Raffaele Fitto, i finiani pugliesi l'hanno vinta. Comunque la stretta di mano fra Fitto e Fini c'è stata e il Ministro della Repubblica, impegnato poi a Bitonto, ha avuto parole di distensione nei confronti del leader di futuro e libertà. In mattinata il Presidente della Camera ha inaugurato l'anno accademico all'Università di Foggia, dove ha ribadito che la riforma universitaria non ci potrà essere senza la disponibilità di risorse. Argomento che ha ribadito anche nell'incontro con il Rettore dell'Università di Bari, Corrado Petrucelli, e il Senato accademico. Se a Foggia gli studenti e i precari hanno protestato sventolando fogli neri in segni di lutto, a Bari lo hanno fatto con le VVZenas. In precedenza Fini aveva avuto un colloquio privato con l'Arcivescovo di Bari, con il signor Francesco Cacucci, e quindi aveva fatto visita ai piccoli pazienti del Policlinico di Bari. A Petrucelli Fini ha ricevuto il suo bagno di folla. In prima fila in platea, oltre ai suoi fedelissimi, ci sono il sindaco di Bari Michele Emiliano, Adriana Polibortone, il procuratore Antonio Laudati. Da Bari Fini lancia il suo partito che però precisa e sottolinea non sarà una Lega del Sud perché, dice, occorrono politiche nazionali per il Sud. Anche la Lega dovrebbe capire che solo un ruolo centrale del Sud può aiutare il rilancio dell'intera economia nazionale. Il Presidente inoltre critica l'uso dei FAS, i fondi per le aree sottosviluppate, adoperati come salvadanaio per le diverse necessità del governo. Quanto alla ricandidatura di Berlusconi, Fini risponde, bene, ma nel frattempo governi.